Fuori controllo. Achille Costacurta, voci shock sul figlio di Martina Colombari, cosa gli succede? Due settimane fa hanno fatto scandalo alcuni commenti social e Instagram story pubblicate da Achille Costacurta, il figlio dell'ex Miss Italia Martina Colombari e dell'ex calciatore del Milan Billy. Il giovane, classe 2004, una quindicina di giorni fa ha postato su social foto con sostanze stupefacenti, mazzette di denaro e pesanti insulti alla madre. Vai come si traffica, quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanto ne vuoi. Non solo il giovane avrebbe taggato la madre in questi contenuti in cui compaiono bustine di droga e un grande quantitativo di soldi. Ma ha anche lasciato degli sgradevoli commenti sotto le foto postate da Martina Colombari sul suo account Instagram, insultandola, ma copriti. Hai 50 anni, ca. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma, una delle frasi shock pubblicate da Achille Costacurta. Achille Costacurta, nuove indiscrezioni shock sul figlio di Martina Colombari e Billy, dopo l'accaduto e la pubblicazione sui giornali. Tutti i profili social sono stati chiusi, e l'account del giovane è stato sospeso dal web, con tanto di intervento della polizia postale. Momenti molto difficili per Martina Colombari e il marito Billy Costacurta. Qualche mese fa, parlando nel salotto Rai di Francesca Fialdini del figlio Achille, l'ex Miss Italia aveva detto, quando un figlio vive il periodo dell'adolescenza, lo vive con lui anche la famiglia, dunque anche i genitori. Lo scorso anno Achille Costacurta era stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo un incidente in cui aveva aggredito un vigile. Quest'ultimo era intervenuto poiché Achille stavo danneggiando un taxi e urlava frasi sconnesse e nel tentativo di calmarlo era stato colpito da un pugno del giovane. Dopo l'ultimo episodio shock sui social, Alessandro Rosica ha scritto un aggiornamento sul figlio di Martina Colombari. L'esperto di gossip, famoso sui social con il nome Chiocciola Investigatore Social, dopo aver ricevuto tantissime domande sul figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha pubblicato un aggiornamento a dir poco shock sul 19enne. Siccome me lo avete nominato, Achille Costacurta, dopo aver infangato la mamma ed essere sparito dai social, si sta godendo le vacanze e sta provando a mettere incinta tutte le donne con cui va a letto, infatti confidandosi con delle persone avrebbe detto che forse delle tipo potrebbero essere incinte. La sua estarela sta passando tra Sardegna e Milano, mentre dovrebbe essere in cura, dato che è un danno per se stesso e per gli altri.